La natura è la vita, l'ha detto Rousseau, la natura è la misura dell'uomo, l'ha detto Schopenhauer, e noi la stiamo distruggendo, ma nessuno dice niente, ed ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata, perché in tutte le cose della natura esiste qualcosa di davvero meraviglioso. Mi sarei mai chiesto il motivo per cui la nostra terra è così inquinata? Il perché di tutto questo? E' l'uomo l'artificio di tutto questo e ora andremo a vedere i cittadini che non hanno il loro ambiente e cosa sono in grado di fare. Ecco invece i ragazzi che cercano di riqualificare la propria terra, cosa sono in grado di fare? Ciao! 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 Grazie a tutti